Siamo con il giocatore che ha deciso questo play out con un gol strepitoso Alla insigne, visto che ti fa Napoli Ok, alla insigne Quando ti ha detto vai a giocare davanti, cosa? Ci ho creduto perché mi vede negli allenamenti, nelle partitele faccio spesso l'attaccante Quindi ha visto lungo, poi ho tirato Però è proprio una palombella perfetta Non poteva finire meglio, non poteva finire meglio Ok, è stata una stagione difficile Difficilissima Quanto vale questa salvezza? Più del campionato che mi ha detto l'anno scorso con la TV con Torino Non lo dico perché ci siamo salvati oggi Ma perché siamo un gruppo con la G maiuscola Siamo tanti di San Mauro, tanti amici Prima della partita ho fatto un discorso dicendo che non mi sarebbe interessata la sconfitta E la retrocessione per un fattore di gruppo Perché non ci meritavamo di essere lì E infatti l'abbiamo dimostrato al 5 minuti dalla fine, al 115esimo 125esimo, sono anch'io 115esimo E quindi vale più del campionato che ha vinto l'anno scorso Bene, grazie mille Grazie, grazie